puoi urlare forza milan dalla finestra della camera sono serio allora perché tu pensi che io non sia serio quando si parla di milan guarda questa è la finestra ok sono in vacanza non è camera mia però va bene lo stesso no questo è il posto vabbè ci proviamo sì me la sento dai forza milan ci siamo ragazzi è andata bene nessuna risposta vabbè è andata bene forza milan sempre sempre sempre